quasi amici quasi amici quasi amici allora quasi amici ci siamo tutti molto agitati ma le ultime ore come vedete un'altalena di emozioni di sentimenti vero non è vero ha saputo che in queste ore può essere operato sarà operato giovanni che cosa che cosa ti dovranno fare spiegalo dovranno chiudermi nuovo la ferita che si è riaperto voleva farmi la la plastica sopra chiudermela con la pelle stessa mia però il chirurgo plastico ha detto si potrebbe pure pensare di farlo potrebbe fare subito infezione è un problema poi riaprire la pulire la cosa momento pulirla del tutto e chiuderla con i punti normalmente nel momento in cui si inizia stagione a chiudere del tutto la ferita si vedrà se hanno bisogno della pezza il rattopo della pelle oppure lasciarla così vuoi vedere domani si sopra la gamba si sta sgonfiando anche perché dalla ferita sta trenando autonomamente giusto mostro con guai a tutte le di pigiami mutande tanto c'è antonio che lava stira ammira e porta è giusto e comunque è andato bene perché è viziatissimo c'è chi riporta il cioccolatino chi la mozzarella chi si procura persino persino chi comanda vabbè non andiamo oltre tino le bracione avrà le bracione capito è liscio e lei non ci sono devono arrivare ancora è passato quel momento di disperazione anche grazie al fatto che ti sei potuto alzare sì però comunque mi sono stancato l'ho detto pure al professore stamattina di stare sempre con questo problema di questa gamba che man mano si apre sicure si crea sempre infezioni ecco però è normale hai letto qualcuno dei messaggi che ti hanno scritto su altri video no i video non li ho letti i messaggi ho visti video si e leggiteli perché tanta gente ma veramente centinaia di persone da ogni parte d'italia non solo d'italia ha fatto nei momenti più difficili tifo per te e adesso sta sperando che tu abbia compreso quello che ti è capitato per quando poi uscirai hai capito ti sei cagato sotto no a che si è canato hai visto che sei cagato sotto mamma mia ragazzi mamma mia quindi domani mattinata tipi domani io sono il primo essere operato uno è il primo poi sono altre due siamo in tradone ragazzi sono i primi eccolo qua con la carrozzella da competizione finalmente non potete capire quasi amici quasi amici è finito l'orario della visita volevamo tranquilli ora vuole andare sul letto per riposare perché fa in culo a stare qua ragazzi tranquilli si opera esce tutto a posto attento prego signore arrivederci ciao ciao non mi faccia sentire cazzate